Ciao ragazzi! La mente mente, libera la mente, liberamente. Ammetto che ero e sono, un po' confuso sul titolo da dare a questo bel videino, ma ero e sono sicuro che parlerò della mente e del pensiero. Quando propongo i miei concerti meditativi con le campane tibetane o ai miei seminari, c'è sempre qualcuno che, a ragion veduta o giustamente, alza la mano e obietta sul fatto di non essere riuscito a spegnere la mente, di non essere riuscito ad annullare i propri pensieri. Ora cercherò di fare un pochino di chiarezza su questo. Diciamo che lo scopo del gioco non è assolutamente quello di spegnere la mente o di annullare completamente i pensieri, ma piuttosto quello di non identificarci con i nostri pensieri e di non identificarci con la nostra mente. Ma piuttosto prendere coscienza di essere una coscienza che ha un corpo e che ha una mente e di imparare a controllare questa mente e i suoi dieci, cento, mille pensieri. Diciamo che la mente può essere amica della coscienza o può esserne nemica. Tutto dipende da chi controlla chi, chi influenza chi. Una persona dovrebbe servirsi della propria mente per liberarsi dalla schiavitù della materia e dalla schiavitù dei sensi. Non per degradarsi ed essere vittima del dominio che materia e sensi cercano di avere sulla nostra mente. Quindi liberare la mente non come spegnere la mente e annullare il pensiero, ma come liberarsi dalla schiavitù, dall'influsso che la realtà materiale e la realtà sensoriale hanno sulla nostra mente. Lo yoga, parlo dello yoga delle otto membra, naturalmente, ci insegna che in questa realtà materiale tutti subiamo l'influsso della materia e tutti subiamo l'influsso dei sensi. Che entrando in contatto con il nostro ego o per meglio dire con il nostro falso ego fa illudere di poter dominare, di poter governare, di poter controllare questa natura materiale. Quindi la mente condizionata è all'origine dell'imprigionamento mio, della mia anima, della coscienza in questo mondo materiale. Ma se la mente è guidata in modo da non farsi ingannare dal finto, dall'apparente luccichio della materia, allora l'anima, la coscienza, sfuggirà al suo condizionamento e sarà finalmente una mente libera. Conviene poi anche imparare a liberare la mente dalle censure, dalle gabbie, dai condizionamenti degli usi e dei costumi del luogo dove siamo nati, per coltivare ed imparare ad accettare i fenomeni solitamente esclusi, rendendo così possibili nuove percezioni e nuove realtà. Si tratta solamente di allargare la propria coscienza e andare oltre, oltre alla materia e soprattutto oltre a ciò che siamo soliti considerare reale. In conclusione, il risveglio dà per scontato un addormentamento da cui poi ti svegli e ti accorgi di essere stato ingannato dalla tua stessa mente. Questa è l'illuminazione. Namaste